anche voi in difficoltà perché volete indossare la borsa a tracolla ma i manici sono troppo corti adesso c'è la soluzione la tracolla regolabile albiero martini in stampa geo con simpatica personalizzazione dall'altro lato visto che bella e come facile agganciarla l'importante però è che la borsa abbia un aggancio per la tracolla